Siamo con il presidente della Pro Vercelli, Massimo II, al termine della conferenza stampa che ha fatto il punto sulle situazioni burocratico-amministrative e sportive che riguardano la Pro Vercelli. A lui chiediamo, ora si riparte, si riparte e si continua, si continua la battaglia amministrativa che non ha avuto ancora sentenze definitive se non la permanenza della Pro in Serie C e si riparte invece con la battaglia sportiva sabato sera alle 20.30 al Robbiano-Piola il derby con il Novara. Sì, ti correggo perché in realtà non è per niente definitiva neanche la permanenza della Pro in Serie C perché non c'è ancora una sentenza definitiva. Però al di là di questo, ieri Gravina ha richiamato tutti alla necessità di giocare pur dicendo, come ha sempre detto pubblicamente, che riteneva corretto il format A22 quindi noi ci atteniamo a questa decisione della FIGC e a quella conseguente della Lega Pro riprendiamo a giocare, continuiamo le nostre battaglie nelle sedi competenti dove prima o dopo troveremo certamente ragione, forse non la troveremo con il ripescaggio ormai effettivamente improbabile, la troveremo con un risarcimento da adesso in avanti ho detto smettiamo di parlare di queste cose ci concentriamo sul calcio giocato, ci concentriamo sul derby che è il primo appuntamento di sabato sera dove spero che tanti dei nostri tifosi siano qua a sostenerci l'appuntamento col derby non lo mancano mai e quindi ecco, questo è il nostro pensiero i ragazzi, l'allenatore, sono stati eccellenti sono stati messi a dura prova si gioca, non si gioca, si gioca una partita sì una partita no, sono stati fino ad oggi incommiabili tre vittorie e un pareggio sono un bottino importante e soprattutto sono la testimonianza di una serietà professionale di questi ragazzi, del loro allenatore, del loro staff veramente eccellenti io sono convinto che faranno benissimo anche sabato sera grazie, forza prova